questa è la mia opera per quanto riguarda l'arte sacra e la viola santa che stiamo appena vivendo questo è il legno della croce alternativo qua abbiamo la Maria di Zeffirelli qua c'è la passione di Gibson la magdalena di Gibson il Gesù di Zeffirelli queste sono le due magdalene la magdalena velata e la magdalena ai predi della croce con una postilla e Maria Magdalena l'amatissima si prostra la croce a braccia nel gran dolore con le sue labbra sante il suo maestro il sangue pace come scorre là dove stringe la croce piange la magdalena e il piede del Cristo invece questo è il Cristo sulla via del Colvario sulla via del Colvario con la premonizione e la pregivisione questo è il quadro della leggenda aurea la leggenda della croce di Jacopo da Vorace qua parliamo del Padre di Sutterrestre della morte di Adamo dal figlio sette tre ramoscelli che divennero poi un albero nel Tempio di Salomone di Gerusalemme poi questo divenne i tre ramoscelli diventano un albero solo poi tagliati durante la costruzione del Tempio l'albero viene messo in una piscina probatica e la regina di Salva predice che quel legno sarà il legno della croce del Salvatore così quel legno diventano la croce di Gesù sul Colvario legno vita comunque è una bellissima leggenda qua c'è il viso del Gesù pestante che entra a Gerusalemme e qua c'è il Cristo coronato di sfida qua siamo di nuovo poi ritorniamo sulla Maddalena Maria di Magdala e poi Migdala ho scoperto che significa l'intrecciatrice di Crini in questo caso il sentiero di Gesù dopo la risurrezione con le orme del Cristo trafitte con le ferite nei piedi che lasciano la traccia del sangue con il suo sangue qua c'è il Cristo di Zeffirelli di Zebra il Cristo di Pepparo Pasolini nel Vangelo II Giovanni e questo è il Cristo di Zeffirelli qua c'è una croce di visione del XXI secolo in chiave metallica abbiamo la Maria ai piedi della croce che con il volto sofferente il Cristo sulla croce la risurrezione e il Dio che ricrea la salvezza dell'uomo attraverso il Dio questo è un po' complesso è ispirato al giocchio da fiore e il chitolo sarebbe alle due eve infatti partiamo dal peccato originale la donna come peccato il drago dell'Apocalisse la seconda Eva che sarebbe stata Maria che attraverso la procreazione il sacrificio la risurrezione del figlio inizia la terza età dello Spirito Santo infatti l'angelo apre il terzo cerchio che sarebbe questo il cerchio del Spirito Santo il giochio della fiore che sarebbe questo qua questa è la pietà il Cristo deposto sulle ginocchia di Maria e in gente addolorata i cerchi concentrici giochino da fiore il cerchio del padre il cerchio del figlio e il cerchio dello Spirito Santo in cui le intersecature sono il miscuglio dei tempi il tempo dello Spirito il tempo del padre il tempo del padre nel figlio il tempo del figlio nel mio spirito e qua c'è il piscis in cui tutti e tre si incontrano comunque è un po' complicato comunque è un calligrama di giochino da fiore questa è una Maria con il bambino Gesù e qua c'è Eva con la prima mela il peccato e il salvatore a fine questa è la salvatore Cristo di fronte alla chiesa dei capocini il Cristo di fronte alla chiesa questo è il drago rosso di giochino da fiore a siti testa il simbolo dell'apocalisse la rosa carolingio o il fiore della vita alfa e omega liberami uomini metà di Gesù di Zepperelli e metà di Gesù di Zepperelli e metà di Zepperelli religione e rivoluzione la mia arte è sacro, la mia mente è ciao